Abbiamo assunto decisioni per finanziare moltissime produzioni che si faranno in Emilia-Romagna nei prossimi mesi per 1.200.000 euro di finanziamento che a loro volta genereranno oltre 6 milioni di investimenti per il cinema e questo è solo una parte di quello che facciamo nel 2020 perché a luglio ci sarà un nuovo bando e un altro milione di euro sempre per far sì che la nostra regione sia una capitale dell'audiovisivo, non solo una regione dove si possono vedere tanti film e ogni tipo di film al cinema ma anche una regione in cui si produce documentari, lungometraggi e adesso anche tanta fiction tv. Sì, con quest'anno chiudiamo in bellezza un triennio di cui la regione può andare fiera. Una delle cose migliori in campo culturale che la regione abbia fatto è stata proprio nel campo del cinema. Ci attende un altro triennio di lavoro, cosa fare nel prossimo triennio lo decideremo assieme alle persone che lavorano nel cinema, dai registi, gli attori, i produttori. Quando si dice il futuro dell'industria culturale si dice per gran parte audiovisivo, come sa chiunque e come ci siamo di nuovo accorti in questo tempo di chiusura il mondo dell'audiovisivo è gran parte del mondo dei piaceri e della cultura dei cittadini.